Letizia Petris, giovane nata a Cesena nel 1999, è diventata un volto noto grazie alla sua partecipazione al grande fratello Vip. Con i suoi 24 anni, e la sua residenza a Coriano, provincia di Rimini, ha conquistato il cuore di oltre 16.000 seguacci su Instagram, dove condivide momenti della sua vita. Laureata in digital marketing, Letizia ha intrapreso la carriera di fotografa, dimostrando versatilità e talento. Dopo l'esperienza nel reality, tornata alla vita di tutti i giorni, la vediamo immergersi nella routine quotidiana, come testimoniato da una serata trascorsa con amici tanto attesi. Il suo percorso nel grande fratello Vip è stato definito fantastico. E ora si prepara a nuove sfide e opportunità nel mondo dello spettacolo e della comunicazione. La sua presenza sui social e la sua personalità affascinante continuano a catturare l'attenzione del pubblico, lasciando intravedere un futuro promettente per questa giovane talentuosa. Grazie a tutti.